Buonasera caro amico Massimo, tanti auguri in questo giorno del tuo cumpleanno, un grande abbraccio dalla Spagna e spero che oggi sarà una giornata bellissima per te insieme alla famiglia, agli amici, parlando di opera, cosa che tu ami tanto come io, ebbene io voglio cantarti in questo giorno così speziale un aria di Puccini, come no, tu sei un grande pucciniano come sono io e ti canto l'aria di Pinkerton bellissima, per te. Addio, fiorito assil, mille tizia e in amore, sempre il mite suo sembiante, con strazio atroce vedrò. Addio, fiorito assil, non reggo alla tua squallone, 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 bene, io ti dico, tu oggi fai tanti anni, non lo so, e io dentro, io il 18 di questo mese di settembre farò 71 anni, anni. Sono affortunato che ancora posso cantare un aria come questa così bella. Bene, un grande abbraccio per te e parliamo. Ciao! 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 Grazie a tutti.